Un saluto da me e da Gioele, siamo qua in Canavesa a Castellamonte, una bellissima giornata di sole e Gioele prima mi ha confidato che vuole realizzare il suo sogno, il suo piccolo grande sogno, il suo prossimo sogno che è quello di avere un'auto più comoda per poter andare in giro con la mamma, con il papà, andare al mare, andare in montagna, andare anche solo a scuola, le piccole cose quotidiane che facciamo noi durante la nostra vita. Io volevo solo sensibilizzare tutti, non solo i cittadini del Canavese ma anche della provincia di Torino, del Piemonte in generale, insomma tutti coloro che vorranno fare questa donazione per realizzare questo sogno che è semplicemente di comprare un mezzo adeguato all'interno del quale possa salire la carrozzina e Gioele possa fare in questo modo i viaggi nel modo più comodo possibile. Donate, 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 grazie da parte mia e soprattutto di Gioele.